Nelle ultime ore c'è stata un po' di polemica sul convegno Novax di martedì prossimo. Hanno già risposto due assessori della sua giunta in merito, ma la sua posizione? Innanzitutto è chiaramente la stessa, comincio da qua, dell'assessora Palmieri e dell'assessora Gaeta. Però a mio avviso si sta innestando una polemica assolutamente eccessiva, almeno per quanto riguarda il nostro punto di vista. Noi abbiamo, come facciamo sempre, incontrato i protagonisti, chiamiamolo, di questo comitato Novax, per capirci da un punto di vista mediatico, politico, per come viene narrato. E abbiamo, come dire, ascoltato le loro posizioni, così come ascoltiamo le posizioni di tutti, così come ascoltiamo le posizioni di chi governa, di chi leggifera e di chi amministra. E ci hanno chiesto se avessimo accettato l'invito per il nostro ruolo istituzionale a confrontarci su questi temi. Ovviamente mi è sembrata una richiesta di assoluto buonsenso e di condivisione. Un Paese democratico non può avere paura delle opinioni dissenzienti, soprattutto su temi che intaccano la vita, innanzitutto dei bambini, dei nostri figli, delle famiglie, che mettono, come dire, poi il mio è una riflessione che faccio da giurista, io non sono scienziato, quindi sono stato chiamato per esprimere una mia opinione sul tema costituzionale, dove da una parte c'è il diritto alla salute, il diritto alla libertà, il diritto all'istruzione, tanto è vero che ci sono Paolo Maddalena, Ferdinando Imposimato e altri. Mi sono, come dire, non raccomandato perché è un termine eccessivo, ho auspicato che in questo incontro si desse la possibilità a tutti di esprimere le proprie opinioni e soprattutto per poter essere utile che ci potessero essere le posizioni che sono molto differenti in alcuni casi che si potessero confrontare, ecco perché l'auspicio che partecipassero i medici, i medici pediatri, l'ordine chiaramente dei medici, l'ASL, il comune, i comitati, i cittadini, gli insegnanti, quello è il motivo per cui semplicemente andremo a fare gli assessori un saluto istituzionale e io, come dire, un intervento da giurista, non da scienziato, perché da scienziato potrei dire delle cose che può dire l'uomo della strada, però anche di una persona che ha un grande desiderio di informarsi e sinceramente sono un po' sorpreso da, come dire, da questa polemica eccessiva. Io non credo si debba avere paura, poi noi sinceramente, quando io ho visto il titolo del convegno libertà di cura e costituzione, se non ricordo male, chi può sottrarsi a un dibattito di questo tipo? Se poi c'è qualche presenza che è considerata sgradita, io preferirei che ci fossero invece presenze, cioè come dire, che a interventi come questi ci fossero persone autorevoli, scienziati, giuristi, medici, pediatri, familiari, si ascolta la voce di quello che è nettamente contrario, quello che è favorevole. Guai un Paese che ha paura del confronto e che non parli di questi temi. Poi la nostra è una posizione, ve lo dico subito, istituzionale. Cioè noi non siamo per la battaglia ideologica, noi siamo perché si parli, perché ci si confronti, perché si rispettano le leggi, che innanzitutto al primo posto si tuteli la salute e proprio perché si deve tutelare la salute vogliamo che questo non sia una frase fatta, un totem, ma salute significa anche rapporto con le persone, perché il diritto alla salute è una cosa che vale per tutti, ma come si realizza il diritto alla salute lo devi rapportare alle persone e la persona ha il diritto di essere informato, soprattutto se diventa soggetto passivo dell'attuazione del diritto alla salute, quindi ogni soggetto la può vivere in un modo diverso, ogni soggetto può avere le sue caratteristiche e quindi la nostra sarà, come dire, semplicemente un partecipare a una riunione dove mi auguro ci sia non una battaglia ideologica, non un pensiero unilaterale, ma ci sia un confronto. E come io vado, e voi mi seguite da, penso, da sei anni, vado a tutti i dibattiti in questa città, ecco perché rimango un po', devo essere a vetà sorpreso, ne penso che nessuno possa sindacare la libertà di pensiero, di movimento e di iniziativa degli amministratori di questa città o sorprendersi che noi ci andiamo a confrontare anche con chi magari la può pensare completamente in modo diverso da chi oggi si dice scioccato di un'iniziativa di questo tipo. No, perché la polemica forse nasce dal fatto che ieri sera hanno scritto un post su Facebook, questi del comitato Novax, dicono abbiamo incontrato il sindaco che ci disse il 4 luglio, se non ricordo male la data, sono con voi, facciamo un convegno, quindi forse è stato interpretato male il sono con voi. Sono con voi, faccio un convegno, il mio pensiero lo saprete, immagino che mi verrete a ascoltare, quando andrò martedì a esprimere, diciamo, a fare quel pensiero che ho detto adesso. Io posso anche un po' anticipare, sono con voi significa trovo giusto e da cittadino io apprezzo che ci siano cittadini che si interrogano e che non sono soggetti passivi, supini. C'è sicuramente chi da un punto di vista scientifico, da un punto di vista istituzionale deve prendere delle scelte per tutti noi, ma perché non parlarne? Poi se invece noi non siamo organizzatori di questo evento, se fossimo stati organizzatori evidentemente avremmo fatto in modo che ci fosse un'effettiva garanzia di interlocuzione di tutti. Dalla locandina mi pare di capire che sono stati invitati diversi soggetti, poi se questo è stato fatto o non è stato fatto, insomma non è che penso stiamo facendo un interrogatorio. Mi state chiedendo qual è il mio pensiero? Io credo questo, io credo che chi ha dei ruoli istituzionali si prende la responsabilità di garantire la salute di tutti e quindi di fare le scelte nell'interesse collettivo. Credo che ci sia anche un indiritto di ogni soggetto a essere profondamente informato, perché l'esperienza ci insegna che certe volte dei totem dietro i quali c'era il diritto alla salute e poi si è scoperto con gli anni ci sia stato dell'altro. Credo che non ogni persona è uguale alla stessa, cioè le modalità con cui si garantisce la prevenzione di una malattia infettiva, il diritto alla salute può essere diverso da Luigi, da Mimmo, da Valerio, da Claudio, o da qualche altro, perché ogni soggetto può essere predisposto in un certo modo. Così come noi l'abbiamo anche, tra virgolette, non subita, ma ci siamo trovati in difficoltà come amministratori a garantire il diritto di accesso a scuola per quelle famiglie che non volevano sottoporsi a una troppa rigidità. Che fosse troppo rigida l'ha compreso anche il governo, che ha dovuto interpretare in maniera non rigida la legge e quindi consentire a tutti di potersi scrivere. Pensate a un sindaco che si è trovato di fronte a un diritto costituzionale all'istruzione per tutti, il diritto alla salute, il diritto all'informazione, il diritto al sapere. Ecco perché è importante che un giurista, che non è uno scienziato, se ti chiedono vuoi partecipare a un confronto, ma certo che viene a partecipare. Vengo a partecipare innanzitutto per capirne sempre di più. Ed ecco perché questa assemblea se ha un valore, e secondo me lo può avere, e se c'è un confronto dove non ci siano ideologie talebane da una parte e dall'altra, ma con ognuno, con umiltà, con la voglia di imparare e anche per poter avere degli strumenti con cui agire. Perché, ripeto, sono diritti costituzionali che possono essere contrapposti. Quindi io invito, come dire, tutti ad evitare battaglie ideologiche, lo dissi pure agli organizzatori. Noi ci saremo se sarà un luogo in cui c'è la possibilità di confrontarsi, nel rispetto delle opinioni di tutti, e anche un luogo in cui poter confrontare la scienza, la medicina, il diritto, l'umanità, le sensibilità diverse, e anche avere rispetto per chi sulla propria pelle ha pagato conseguenze, magari per delle campagne, come dire, sulla prevenzione della salute, che poi sono dimostrate discutibili. Quindi noi siamo persone di istituzioni, rispettiamo la legge, rispettiamo quelle che state le indicazioni, ma siamo molto, come dire, convinti che il confronto non possa sicuramente far male a nessuno, e quindi mi auguro che questa mia dichiarazione possa portare nella corretta strada quello che spero sia un confronto, come dire, civico, dialettico, vivace, e anzi mi auguro che i pediatri, i medici, insomma, possano tutti quanti intervenire, se lo ritengono, oppure andare in altri luoghi. Noi ogni volta che saremo invitati su questi temi, se si parla di queste cose in luoghi democratici, noi ci saremo, perché è giusto che il Comune ci sia e ci siamo sempre stati. Ecco perché rimango, devo dire, un po' perplesso di questa polemica, che sinceramente mi sembra onestamente davvero eccessiva.